Bene, il Tg del consumatore in questa edizione parlerà soprattutto di quello che è il rapporto tra le società di recupero crediti e le associazioni dei consumatori. E' anche questo uno degli elementi di maggiore evidenza di questo momento di crisi e sempre più sono contrastanti appunto i rapporti tra le società di recupero. Da una parte c'è il mandato, c'è l'incarico di recuperare il credito e dall'altra parte però è sanzionabile, cosa che è successo anche in passato, le modalità attraverso cui queste società cercano appunto di recuperare il credito e bene, regole certe, comportamenti degli operatori improntati, come si dice qui nel lancio di agenzie help consumatori ad etica ed deontologia, buone prassi da condividere con i cittadini. E' questa una guida dei servizi che la convenzione, il forum tra Unirec e consumatori ha deciso di portare avanti e ha deciso anche e soprattutto di coltivare. Poi un bilancio, 20 anni dell'autorità garante per la concorrenza e il mercato, quello che si dice in gergo tecnico e anglofono antitrust, ma è molto più bello appunto concorrenza e mercato. Ebbene, in 20 anni sono state, diciamo, erogate sanzioni per circa 2 miliardi e 700 milioni di euro, ma di queste circa il 60% sono state poi cancellate totalmente o parzialmente da parte del TAR. E poi diventa anche effettivamente difficile il recupero di queste sanzioni, soprattutto quando le società sono società di capitali che non hanno, diciamo, delle grandi riserve a cui lo Stato possa attingere. Ma quello che potrebbe avere maggiore incidenza è l'aspetto inibitorio, e cioè praticamente la possibilità di impedire che addirittura la società continui ad esercitare la propria attività nel caso in cui non solo ripeta queste sue inadempienze, ma che non paghi poi quelle che sono le sanzioni. Una specie di DURC da parte dell'autorità garante. È allo studio da parte delle associazioni di tutela dei consumatori e vedremo poi se questo avrà un effetto immediato. Cittadinanza Attiva e SCAI attivano la conciliazione. Non sono molte, per la verità, le conciliazioni, i motivi di lamentela da parte dei consumatori nei confronti di SCAI, ma questa società ha dato comunque avvio appunto alle procedure di conciliazione. Un aspetto particolare della nostra vita, dei primi anni di questo nuovo secolo, la cosiddetta eredità digitale. Ebbene, dice la nostra agenzia Help Consumatori, dati personali, archivi su cloud, blog, profili social e chi più ne ha più ne metta. Ebbene, non si tratta di un patrimonio affettivo, ma in alcuni casi anche un patrimonio economico. È un bene che potrebbe cadere in eredità. Basti pensare a tutte quelle che può essere una rete di contatti che il soggetto, imprenditore, professionista o anche dipendente, ha nei confronti di tutti coloro i quali sono appunto in contatto con lui e che ovviamente possono determinare una serie di attività anche di tipo economico. I cittadini devono avere gli strumenti per una corretta gestione dei propri dati in rete. Ebbene, l'Associazione dei Notari, l'Ordine Nazionale dei Notari e l'Università Bocconi hanno cominciato a studiare anche questo particolare tipo di eredità. C'è stato in questi giorni da parte del Codacons l'organizzazione del premio amico del consumatore che ha fatto anche un po' il paio di quello che è stato il premio DONA organizzato dall'Unione Nazionale dei Consumatori che, devo dire, è andato molto bene e che ha di nuovo evidenziato come la più antica, più datata associazione di tutela dei consumatori sia ancora abbastanza giovane e spigliata e l'anno prossimo saranno 60 gli anni di presenza dell'Unione Nazionale dei Consumatori sullo scenario economico, sociale e politico dell'Italia. E al via l'iniziativa dell'Unicredit un voto 200.000 aiuti concreti per premiare da parte dell'Unicredit l'impegno delle associazioni e dei volontari nel settore del no profit che sta diventando, insieme con quello della cooperazione il più grande settore di traino per quel poco di assunzioni che c'è in questo momento nell'economia nazionale e perde notevolmente l'economia tradizionale e cresce, anche se naturalmente con le grosse difficoltà che ci sono del cosiddetto terzo settore è quello del volontariato, del no profit e un punto debole del nostro Tg è questo, un argomento debole poste via degli aumenti ebbene ci sono praticamente aumenti di nuovo sia nella postalizzazione ordinaria e anche nella postalizzazione diciamo più evoluta e basti dire che si passa da 70 a 80 centesimi quindi più del 10% per i francobolli di posta prioritaria le buste pare invece a 40 centesimi l'aumento per le raccomandate sempre fino a 20 grammi di peso si passa da 3,60 a 4 euro mentre invece per quanto riguarda i pacchi il costo è 9 euro per i pacchi nazionali fino a 10 chili mentre 12 euro quelle che superano questo peso c'è anche da dire però che oramai il settore della postalizzazione sta diventando sempre più in perdita per poste italiane dal momento che gran parte dei messaggi arrivano, vengono trasmessi e giungono e pervengono attraverso la posta elettronica ordinaria e la posta elettronica certificata e ritornando agli approfondimenti dicevamo prima della cosiddetta eredità digitale e infatti secondo un recente sondaggio in media è pari a 35 mila dollari quindi praticamente circa 25 mila euro il valore dei beni virtuali memorizzati sui nostri dispositivi digitali in cima alla classifica ci sono i ricordi personali e sono anche quantificati il valore bene le foto e video con un valore in media tradotto in euro di 12.500 euro seguono le informazioni personali sanitarie e finanziarie con un valore di 6.400 dollari quindi poco più di 4.000 euro le informazioni di natura personali a ciò va aggiunto che il 72% degli utenti è a rischio di furto di identità e di frodi online attenzione pertanto lo ripetiamo di nuovo quando voi cari telespettatori lanciate i vostri dati personali o informazioni o documenti c'è sempre il rischio purtroppo che possano essere come si dice in gergo clonati e che la vostra identità venga trasferita ad altri e con questo è tutto per oggi per il Tg del consumatore vi ringraziamo per l'attività per l'attenzione che ci avete dato e per l'attività anche che ci consentite di svolgere nell'interesse dei consumatori e vi rinviamo alle prossime edizioni del Tg arrivederci